Pierino, ciao! Come ti senti? Vecchio! Cosa si prova? Eh, questo è il mio amore, tra tre anni ne riparliamo, purtroppo è un passo. Ma amore, Massimo, ma noi saremo giovani, siamo giovani dentro, l'importante ragazze è mantenersi giovani anche dentro, l'animo da Peter Pan. Secondo me noi saremo uguali, l'unico segreto per cercare di camuffare bene l'età. Esatto. Vecchi ma belli, direi, guardate qui Gia Salemi di una bellezza incredibile. Ipnotica, sensuale, magica, irresistibile. Mi sento così quando indossi un sex di Charlotte Leopoldi. Non una semplice fragranza, ma un'esperienza sensoriale. Vediamo quelle foto del giorno, sono di lei e Pierpaolo e Pretelli. Stupenda, ciao! 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 Grazie a tutti.